L'associazione Lissea è un'organizzazione per la difesa internazionale, sensibilizzazione e sviluppo dell'eccellenza artistica. Nasce dal comitato di protesta Pompei Mia, è la riunione dei giovani che sono posti come obiettivo quello di promuovere il patrimonio culturale italiano e soprattutto quello campano in ambito internazionale. L'associazione Lissea ha organizzato questo evento, il Christmas Art, che nasce sì come evento culturale ma che ha come fine principale quello solidaristico. Perché? Perché tramite questa raccolta di libri, materiale didattico, oggettistica, giocattoli e quant'altro, saranno devoluti alle case famiglie del territorio vesuviano. In questo modo vogliamo creare un nesso tra la solidarietà e la cultura. Perché? Perché la cultura, a nostro parete, è il nostro modo per rialzare la testa. Inoltre ci teniamo tantissimo a ringraziare gli artisti Maria Antonucci e Massimo De Angelis che hanno prestato la loro arte in questi due giorni di eventi. Quindi ci stiamo impegnando, questo è uno dei nostri primi eventi, seguiteci. Ringraziamo il forum dei giorni di Ercolano che ci ha dato una mano in questa iniziativa e soprattutto ci ha concesso la splendido scenario della Villa Maiuri e la miglia d'oro arte di Bortici. Penso non ci sia nient'altro da aggiungere. Assolutamente no. Solidarietà e cultura. Ragazzi seguiteci, Lissea vi ascolta. Attivati! Grazie a tutti!